The Chosen è la prima serie tv che racconta la vita di Gesù. Ciao ragazzi, sono Walter Nudo. Nella mia vita ho avuto l'onore di fare veramente tante cose. Ho avuto l'onore di passare più di 15.000 ore su set televisivi. Perché ti dico questo? Perché c'è una serie televisiva che mi ha colpito più delle altre. Vedete, sin dalle prime puntate, mentre la guardavo, c'è stata una continua catarsi di leggerezza e liberazione. E da quel momento non ho fatto altro che parlanne tutte le persone che conoscevo, dai miei figli, ai miei amici, ai miei parenti e adesso a voi. The Chosen è la prima serie tv che racconta la vita di Gesù. Sai, indipendentemente dalla fede o non fede di ognuno di noi, non possiamo negare che Gesù è il personaggio più importante della storia. Infatti noi oggi viviamo un pre-Cristo e un dopo-Cristo. Conoscere la vita di quest'uomo non è solamente un dovere, ma è un tuo diritto. La bella notizia è che tu puoi guardare The Chosen, le prime tre stagioni gratuitamente sull'applicazione, scaricandola. Voglio che arrivi a te quello che è arrivato a me. Voglio che dia a te questa serie televisiva quello che è data a me. Quindi non vedo l'ora di sapere cosa ne pensi. A presto.